Vorrei presentarvi la mia attività originale. La mia azienda, la Maltiere, produce barche da pesca e imbarcazioni in alluminio saldato da oltre 20 anni. Ogni mia barca in alluminio può essere adattata alle esigenze del cliente. Le nostre barche sono realizzate interamente nella nostra officina di Levaré, a Maienne, in Francia. La barca da pesca che proponiamo e a fondo piatto. Le nostre barche sono omologate e ce e possono essere immatricolate nella categoria D. Ogni barca è uno scafo a fondo piatto saldato in uno strato sottile per garantire una leggerezza senza pari. Le nostre barche sono quindi leggere, stabili e completamente adattabili. La mia azienda si basa sull'artigianato e ha un know-how unico che produce barche eccezionalmente leggere. Le nostre barche sono fatte a mano, costruite per durare nel tempo. Salire a bordo di la Maltiere significa vivere un'esperienza eccezionale.